Ciao a tutti, adesso qui nel nostro piccolo studio abbiamo Alessandra Valery, grazie mille per essere qui con noi, buongiorno e volevamo chiedere soltanto qualche domanda a te. Qual è la tua prima impressione di questo evento per tutti questi giorni? Una bellissima impressione, infatti io sono tornata qui per il secondo anno, ero già qui l'anno scorso e ho accettato volentieri l'invito anche per quest'anno perché è stata una bellissima esperienza, un evento per me molto particolare perché non sono abituata durante l'anno ad essere presente ad eventi come questo, mi piace molto, ci sono tante cose nuove e sono anche contenta ecco di questo progetto che sta portando avanti Jerry di in qualche modo riunire due mondi. Grazie, sei stata anche con noi ieri sera qui? Sì sì, ero qui per il Galà. Cosa ti è piaciuto di più di ieri sera? Dunque, che cosa mi è piaciuto? Intanto l'eleganza della serata perché era una serata molto elegante in tutti i sensi, sia come organizzazione che come presenze in assoluto. Mi è piaciuto ovviamente vedere gli show, mi è piaciuto assistere ad alcune premiazioni direi molto meritate, di personaggi che conosco da tanti anni e di personaggi che stanno portando avanti dei progetti molto importanti. Grazie Emilia Alessandra, e l'ultima domanda che vorrei chiedere in inglese perché abbiamo molti persone da tutto il mondo, quindi... Ok, quindi è molto semplice, una domanda che vorrei piacere a tutti ieri, che stanno lavorando così forti per noi per organizzare questo evento. Quindi magari ci sono alcuni piacere di te, per il futuro. Mi piacerebbe, per me e, ovviamente, per Jerry, che questo evento sia ancora più grande di questo, quindi più partecipazione. e magari più partecipazione dei due mondi, come ho detto prima, ci sono due mondi che si incontrano, quindi questo è il mio più grande obiettivo per questo. E, ovviamente, anche più eventi, non so chi è cercato, ma Jerry è un molto buon organizzatore, quindi credo che con i anni sarà ancora meglio. Grazie mille, grazie a tutti, e grazie a tutti per essere qui con noi, ha un buon giorno oggi, e vi facciamo un buon giorno insieme, grazie. Grazie mille, grazie.